L'idea che vorrei lasciare ai ragazzi della Summer School è molto semplice. L'intreccio fra arte, scienza e tecnologia, che rappresenta uno dei cardini anche dell'offerta educativa dell'Opificio Gorinelli, costituisce una grande risorsa intellettuale e morale non solo per questa città, ma anche per tutti i colori ragazzi che frequentano quest'ambiente e che poi sono destinati ad avere un ruolo nello spazio futuro della loro generazione. Io credo che questo intreccio fra la suggestione della creatività da un lato e dall'altro il rigore e l'organizzazione mentale dell'impresa siano un valore aggiunto inestimabile e che questo possa essere insegnato, possa anche essere insegnato, non si possa solo apprendere dall'esperienza. E quindi io mi auguro che questo acceleratore culturale che oggi abbiamo qui a Bologna possa anche in futuro dispiegare pienamente tutte le sue infinite possibilità.